Ovest della Bosnia, regione chiamata Craina, programma della giornata grigliata con gli amici. Andiamo. Si parte. Perfetto, ore 9.20, si parte, andiamo a prendere su un paio di amici e via con la grigliata. Eccolo che arriva, il primo dei due amici, informissima, saluta. Ecco anche il secondo amico, sta ancora dormendo. Mica male sta salita. Vediamo l'autista. Se non sale, noi andiamo indietro, lo sai? Eh, lo so. Dai gas, dai gas, dai gas. Bene, siamo incastrati. Tappa nella città vecchia di Cazzi. Si riparte. Si riparte. Sì. 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 Con la polo, attenzione. Speriamo di non avere problemi poi. Moschea ubicata su un isolotto, davvero speciale. alla scoperta dell'isola. Sì. 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 Dopo aver giocato un po' con Rex, siamo pronti a ripartire. Questa volta andiamo finalmente a grigliare anche perché si è fatta una certa fame. Giusto. Va. Siamo ripartiti attraverso il ponte di Regno e si va.